salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video oggi iniziamo un nuovo titolo marta is dead titolo molto interessante secondo me dal genere horror avevo provato un po di tempo fa la demo mi era piaciuta moltissimo e quindi ora che è uscito il titolo completo assolutamente ci tengo a giocarlo e a portarlo sul canale stiamo giocando la versione pc quindi avremo la versione senza nessun tipo di censura in quanto la controparte playstation è stata censurata in alcune parti ora non sono andato a vedere nel dettaglio che cosa per evitare di spolerarmi qualcosina comunque sia qui possiamo godere insomma della versione come gli sviluppatori l'hanno pensata allora senza perdere troppo tempo direi di incominciare subito ok tanto iniziamo allora ok inizia il titolo è sviluppato da una software house italiana ed è molto molto interessante la strada di matt is dead dei personaggi a presentare sono un lavoro di finzione il gioco contiene scene che potrebbero mettere a disagio e parla di tematiche che potrebbero creare sconforto in alcuni giocatori e giocatrici e giocatori il gioco è consigliato per un pubblico adulto e sopporterà leggi rating richiesto essendo un dramma narrativo con tematiche per adulti il gioco fa ricorso ad interpretazioni artistiche che possono essere viste come angoscianti e causano sgomento il gioco è consigliato per giocatrice o giocatori che possono trovare non è consigliato ovviamente per i giocatrici o giocatori che possono trovare disturbanti scene del contenuto maturo sangue smembramenti deformazioni di parti del corpo e autolesionismo se rientrate diciamo in queste categorie sappiate che potreste trovare qualche cosa che potrebbe darvi fastidio se qualcuno conosce si trova in difficoltà informazioni oggi si va bene ok se non ricordo male dovrebbe essere anche parlato in italiano ciao sono giulia giulia k sono contenta che tu sia qui nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai devo raccontarti la mia storia lo so ma non so da dove cominciare ci sono così tante cose dovrei iniziare dalla mia infanzia ma di quel periodo ricordo così poco solo quell'estate era il 29 mi sembra quando fui mandata a stare dalla tata ok nuovo capitolo la leggenda estate 1929 bene ma perché è così cattiva vedi giulia la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive anche se non siamo veramente cattivi come i soldati che uccidono gli altri soldati mi piace la dama ho deciso ammola inquidante poverina soffre così tanto però continuo a farmi un po' paura sai io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi uccida anche chi le vuole bene certo che no allora io mi sento più tranquilla io le voglio bene e mia sorella Marta è in pericolo Marta è con la mamma puoi stare tranquilla ti mancano no cioè sì mi manca un pochino Marta ma con te sto così bene ora dormi passerotto si è fatto tardi sì tata dormo sognerò la dama era molto bella era molto bella sì molto bella allora io la sognerò bellissima io sarò bella bella come lei tu sarei ancora più bella di lei senti tata visto che la dama non mi farà del male sai perché la voglio bene e visto che tu non sei una giovane donna mi potresti raccontare la sua storia è stata di che sono vecchia no perché mi capo dai o dormo promesso e va bene l'hai sempre vinta tua piccola peste ok un vado gentile ci ha dato della vecchia praticamente parella e amavo quella storia ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più tutte le sere le chiedevo di raccontarmela anche se mi faceva paura ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo come ero felice ok stiamo a bianca un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna morta per mano dell'uomo che amava ecco aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago il desiderio le speranze ma ad aspettarla c'era la morte non l'amore no prendi la parola continua ad ascoltare prendi la parola poverina però non è giusto la vita non è giusta tesoro ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla ci proverò però mi fa una rabbia leggi tata leggi dai l'uomo disperato confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata è proprio una storia da raccontare la ragazzina però nonostante le lunghe ricerche però il corpo della ragazza non fu mai trovato da allora il suo spirito conosciuto come la dama bianca vive prigioniero nelle acque dei laghi disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama ok quando si alza la nebbia la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi nella vana ricerca del suo amore i cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose prendiamo la parola mi fa paura questa storia anche se la dama mi piace smetto di leggere passerotto mio no tata papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare vai avanti d'accordo piccola la dama esige la vita di una giovane donna ogni qual volta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì attraverso questa giovane vita che svanisce per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore buonanotte tata buonanotte amore mio non proprio una storia da raccontare quasi tre anni poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici fu dopo 15 anni nel 44 che tornai a stare in quella casa e che stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco vicino al lago un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto adesso era abbiamo inventato l'autoscatto nuovo capitolo il lago 16 luglio 1944 ore 6 del mattino RT per interagire apposto sistemata bene arrotolare il rullino effetti aprire la macchina togliere il rullino vecchio per nuova mettere il rullino nuovo a richiudere la macchina chiudere la macchina ripidi attivare il temporizzatore ci siamo quasi devo solo mettere a fuoco l'immagine ok qui c'è qualcosa sulla superficie dell'acqua se la inquadro meglio forse riesco a vedere di cosa si tratta eh si direi si capisce niente ah eccolo allora no ma 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 è una persona devo aiutarla andiamo andiamo orrisore ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago era il mio mondo quello ci passavo intere giornate a fantasticare mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile e putta sti cacchiati vestiti che te frega vai lago veloci veloci e niente direi che è un po' troppo tardi notai subito che indossava un mio vestito ero spaventata trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva cercando di non annegare a mia volta capì di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia era mia sorella mia sorella gemella ed era morta beh se aveva un tuo vestito ero così disperata non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo è stata una bella battodio devo stare calma era una parolone morta tua sorella Marta non è morta suba sembrerebbe non è possibile c'è riesco a capire non è vero non c'è motivo di preoccuparsi no infatti non c'è motivo sta un po' così boom tutto tutto è morta è morta 16 febbraio 1923 1923 vabbè questo prendiamo noi tutto bene ti sei fatta male chi è? cosa stai combinando? vai Erich corri ah i genitori i miei corsero verso di me mia madre mi abbracciò lei lei che mi detestava mi stava accarezzando il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile mi sentivo protetta Marta stai bene? mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra pensava che fossi sorda pensava che fossi Marta ok quindi Marta era sorda così feci timidamente cenno di sì con la testa non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno e quindi la madre si non ho dovuto far finta di essere Marta per sempre è che sono due figlie gemelli però cioè la madre ti accorge di una dell'altra solo perché quella c'aveva il ciondolo che cacchio ho capito il corpo un giorno dopo la morte di Marta ora il 22 e 30 la cruce e namase dai plenda la luce eterna amen sta a dormire la mamma ha sempre qualcosa da fare per tutti devo accendere le candele suggerimenti possono essere disabilità nelle mie opzioni r previdenziali punti di interesse io quanti vabbè cominciamo da qua dai piano piano li guardiamo tutti allora io e Marta che Marta l'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso neppure la mamma non è necessità riconoscerci eh sì se no ti avrebbe scambiato per lei quando lei quando ci ha trovato lì la spiaggia questo pittore era amico del nonno mi sono sempre piaciuti i suoi quadri da bambina li guardavo per ore la mamma e il babbo eleganza e ricchezza ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma ok qui libri 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 e nella villa ne sono rimasti almeno dieci volte tanti ma si è biocchiato deve essere sconvolto lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po' i fucili? questi fucili da caccia non sono del babbo lui non va a caccia li deve aver lasciati qui la tata minchia l'obbo è del babbo stavamo preparando un duetto molto bello insieme le rare volte che era a casa ok questo accendila accendila si vai accendi role si particolare è più che altro il sistema di controllo insomma con il letto destro interagisco cose quando hai fatto potresti venire a prendere i fiori per favore oppure manda Marta un attimo non ha un attimo di pace anche in un momento come questo non riesce a stare ferma un solo istante infatti si aspetta un attimo che abbiamo ancora mezza stanza da controllare allora questo chi è sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato sarebbe stata più adatta la mamma se non fosse stata una donna ok allora qui la scatola di un telegrafo io lo so usare il babbo mi ha insegnato capito ma che cacchio un attimo aspetta un attimo aspetta che sto a guardare non c'è motivo di telefonare ora eh sì anche perché poi se sono muta è tordi 17 luglio 1944 la nostra famiglia commossa vi è vicina in questa grave circostanza Ernesto e e famiglia sì altro 17 luglio 1944 nel cordoglio che ci unisce siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia Monsignor Attilio Di che best vabbè tutti i telegrammi ci hanno andato vabbè meglio di niente un dipinto antico lo trovo così triste mi comunica un grande senso di solitudine vabbè ok la radio non posso spengerla dobbiamo ascoltare la radio sempre eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza sì meglio andare o finirà per arrabbiarsi seriamente vabbè no ma dai insomma ma quando sta qui dalla porta vecchio ma ma un po' devi entrare scusa eh eh vecchio tutto deve essere sempre perfetto per lei si rimenta ma scusa eh avanti avanti si si ho capito non ho capito non ho capito ti vuoi lasciare sti fiorini ah ma si ma si ma anche corro intanto si parla londra qui ah qua fuori ok perfetto perfetto ci hanno chiuso fuori ci hanno chiuso fuori ma che cazzo ma stiamo qua fuori ma che chiudete eric svegliati ti sembra il caso di dormire proprio qui siamo rimasti fuori si devo essermi addormentato adesso oh aprite sta chiacchia di porta ma non puoi stare sempre qui vai a letto no 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 voglio rimanere con mia figlia tua figlia tua figlia ne hai un'altra di figlia sai quella viva ti ricordi vabbè capito ma cosa chiusi Irene Giulia è morta che discorso è questo come puoi appunto dovresti pensare a Marta a lei Giulia ha fatto un bel regalo lo sai vero ma come se non bastasse ora l'ha anche lasciata sola la solita storia che tutto è colpa di Giulia vero Marta è sorda tu che non puoi aver figli ma ti sembra il momento Giulia è morta ah ok morta qualcuno l'ha uccisa te ne rendi conto certo che me ne rendo conto lo capisco cosa credi se non lo capisco io sempre problemi solo problemi sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente oh madonna tu sei pazzo io sono pazzo io c'è ragione che cos'è è così sono io la causa della tua morte ho saputo farti solo del male Giulia povera dolce strampalata Giulia come farò senza di te come sarà la vita ora tutto il tempo che non ho saputo spendere con te ora sono a casa possiamo andare a pescare insieme possiamo fotografare le farfalle no non possiamo fare più niente insieme vero? forse no forse non più forse questa è mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola la giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Eric K è stata assassinata nei pressi della sua abitazione che ragioni possono esserci dietro un atto così vile è quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti è comunque un sospetto di... di omicidi insomma però la mamma non sembrava soffrire molto mentire di no forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo in fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io e sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero ma il senso di colpa iniziò a divorarmi fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili Marta ha presa... ha trovato no ho sbagliato allora Marta ha perso la mia la sua la sua Marta ha perso la sua vita Marta ha perso la sua anima quindi prima era vita anima ok Marta ha perso la sua anima Marta ha perso la sua 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 Certo, un po' inquietante insomma Non proprio nel fiore degli anni insomma Altra foto Che altro scusa, si ha detto che lei non poteva avere figli Quindi le figlie sono di una precedente moglie insomma Io L'ha rubato La sua Identità o vita, non lo so, non so che può essere tutti e due uguali Ok, vabbè rubata la sua vita, no, rubata la sua identità E' tutto sto sangue qui E' uno squartato Quelle scarpe Ok, c'è un corpo Mamma mia Ok, vedo che sia questa la qualcosa che sia stato censurato Perché lui praticamente con il medaglione che lei aveva al colo Sta praticamente spuagliando la faccia La sta Togliendo Beh, è proprio una bellissima scena Ovviamente non l'ha affatto per davvero Però insomma si sogna Che ha praticamente preso la sua faccia Che se l'ha messa addosso praticamente Bella Che bella scena Proprio Non proprio il top Eh Ok Mamma mia Com'è la situazione Vabbè Se vede uguale Un po' giallogno Ma se vede bene Beh Decisamente particolare e inquietante Come sogno Era solo un sogno Un orribile sogno Quella donna Il volto di mia sorella Vorrei che tutto fosse un sogno E vedere mia sorella che dorme nel suo letto Invece il letto è vuoto E questa è la realtà Sì Queste siamo io e Marta alla festa del patrono Erano solo pochi mesi fa E ora Praticamente identiche Quindi Ci sta che Ma ecco la La madre si sia accorta Della La differenza Voleva una di quelle mie espressioni Che tanto la divertivano Con quella sfumatura Che lei non riusciva ad imitare Diceva che quella Era la mia essenza Una foto può catturare l'anima Posso catturare l'anima di Marta Ok Nuovo capitolo La stanza Allora Come sempre Diamo un'occhiata in giro E vediamo com'è la situazione Tutto sembra essere spaventoso ultimamente Eppure qui è tutto così bello e luminoso Effettivamente è un po' inquietanti Sti Sti Tratti Comunque graficamente Tanta tanta roba Hanno Ricreato L'arredamento Anche di quel Di quel periodo Ma Ho fatto Sempre una Buona impressione All'inizio Quando l'ho Provato anche la demo Chissà dove è la chiave Adosso non l'aveva Forse è finita in fondo al lago Ok Possiamo aprire Questa I vestiti di Marta Per me sarà come averla accanto E la mamma sarà felice di vederli Potrei anche usare i miei vestiti Nell'altro armadio Ok Ehm No vabbè mettiamoci qualcosa Questo vestito è solo per le grandi occasioni Niente Ho già sbagliato Questo Bene Sta capicetta Questo ci piace Allora Vediamo che altro c'è da Da controllare Qui altri Quadri di Favole spaventose Ancora favole spaventose Ma perché Scusa Non c'era niente Di più allegro Mentre dentro Una camera Di ragazze Sono circa le nove e mezza Eh sì È il 18 luglio È il 18 luglio La stufetta Vediamo un po' Questo è l'armadio di Nostro praticamente Di Giulia Eh sì Se siamo vestiti Camicetta questa Ok Che belle Perlomeno qua c'è Sei farfalle Ci stanno I quadri dei favole Qui è già un po' Più caruccio Sì Selle Ok Questi sono I nonni O forse Era Marta Nessuno Se lo ricorda Ok Mi sembra che abbiamo Guardato No Tengo sempre La mia cassetta Chiusa a chiave Ma la chiave In realtà Sta Praticamente È come se fossi Tipo speculare Solo che c'è Una sola stufa Qui c'è La schivania Ovviamente Non abbiamo La chiave Dell'ucchietta Della cassetta Di Marta Va bene Possiamo uscire Nella mia borsa C'è sempre tutto Quello che mi serve Ok Hai aperto La borsa di Giulia Qui puoi trovare Gli oggetti Che Giulia Porta sempre con sé Quelli che troverà Durante il gioco In base a sinistra Nell'elenco degli oggetti Seleziona un oggetto Per utilizzarlo O analizzarlo Bene Ora provo a selezionare La chiave O la mappa Vabbè Apriamo un attimo La mappa Questa è la mappa Di tutta la zona Di tutto Ok Questa Ok E Quindi Cosa serve la chiave Pilla ora Che c'abbiamo All'interno Il mio diario 12 luglio 1944 Questo è un nuovo diario Ci siamo trasferiti qui oggi E quello vecchio L'ho scordato a casa mia Ma va bene così Un nuovo capitolo Nella mia vita Un nuovo diario Ci hanno fatto venire qui Per sicurezza Ci teneva molto Insomma Il babbo La guerra E tutto il resto La tata ci ha lasciato la sua casa Ed è andata a custodire la nostra villa È strano essere qui Dopo Abbiamo fatto scambio praticamente Ricordo la tata che mi raccontava La favola della dama del lago È uno dei pochi ricordi Di quando ero piccola La tata non c'è Peccato Però Marta è qui con me E poi potrà vedermi Molto più spesso con l'apo Stupendo Lui è sempre qui intorno La mamma fortunatamente è troppo preoccupata A sistemare la casa Per pensare a me Almeno per ora Fortunatamente Ok 16 luglio 1944 C'è qualcosa di strano nel bosco Che senso? Ogni volta che sono al lago Ho una strana sensazione Forse è la leggenda della dama bianca Che mi influenza Mi vengono delle strane idee Penso che ci siano delle presenze Poi penso che sono completamente scema Comunque sia Scemo o no Voglio fare delle fotografie Non sono spaventata Non sono spaventata Anzi Direi che sono eccitata Mi sono messa d'accordo con Marta Domani mi accompagnerà al lago A mettere due nuove macchine fotografiche Con il temporizzatore Vediamo cosa riusciremo a fotografare Non prima di un bel bagno ovviamente A dire il vero Marta non ama molto la fotografia E ultimamente neppure fare il bagno Ma si diverte a stare con me A farmi i dispetti Poi quando si stanca Si mette a leggere i suoi libri E io faccio le mie cose Stiamo insieme Stiamo bene Ok Poi penso che ci sia stata la tragedia E andiamo dai D'accordo Ma non credo sia il caso Di lasciarla dormire tutto il giorno no? Come dici? Va bene non la sveglio Accendo solo la sua luce Almeno quando si sveglia Sa che deve scendere per la colazione Pensano davvero che io sia Marta E che non possa sentirle Devo stare attenta a non parlare E a non far capire che posso sentire O saranno guai seri Beh scendi dai Finta che se siamo svegliati presto Abbiamo fatto tutto noi E via così Allora possiamo chiudere Lasciamo tutta questa Qua è chiusa Vediamo le occhiate in giro Andiamo a fare curazione Poi ragazzi Ti salutiamo Se no finiamo un po' troppo lunghi Come il primo episodio Non nevica spesso da queste parti Purtroppo Eh beh capita Non c'è niente Un sacco di quadri In casa nostra Non mancano mai La mamma è appassionata di pittura Questo che è? Il babbo ama queste stampe di Firenze Io le trovo un po' tristi Eh sì Un po' chi ha detto Volebbi percorrere Sì sì Questo l'avevo già scoperto Però voglio Guardarmi un attimo La casa con chiama Qui che c'è Giulia E' chiusa Strano Perché hanno chiuso Proprio la mia vecchia stanza Prendiamo la nostra stanza privata Questa era la mia camera Ok Ok dai Scendiamo giù Facciamo la colazione La colazione per Marta è pronta Possiamo andare Sì Si sta facendo tardi Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta A leggerlo Sì Irene E' lì sul tavolo Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì Puoi lasciarla lì ancora qualche giorno Ti dispiace? Era per Giulia Poi la toglierò Ora mi fa troppa tristezza Vederla lì è come se Non so come spiegarti Va bene Va bene Va bene Ma adesso andiamo Che ci sono troppe cose da fare Per stare qui a parlare Ha capito mamma mia Oh Ma che cos'ha? Il babbo ha ragione Comunque Marta leggeva sempre tutto Leggerò io il giornale oggi Al suo posto Staranno fuori tutto il giorno I preparativi del funerale Li impegneranno molto E' tutto più complesso con la guerra Nei prossimi giorni Li vedrò poco e niente Ok Allora vediamo un po' Il giornale Cose da fare Marta leggeva sempre il giornale Devo farlo come lei Così nessuno si insospettirà Leggi il giornale del 18 luglio Il teore informazione potrebbe trovarsi su un tavolo La cornice Cose da fare Devi mettere la mia foto in questa cornice vuota Lo dicevamo Sempre con Marta Ma non l'abbiamo mai fatto A lei sarebbe piaciuto tantissimo La macchina fotografica La macchina fotografica Mi piace avere sempre la macchina fotografica con me Qua da un minuto lo aspetti Si presenta l'occasione per lo scatto perfetto Quella che il mio padre ha lasciato sul tavolo Potrebbe andare bene Ok Allora L'unione del popolo Feroce assassino a San Casciano Giulia Cappa Giovane donna di rispettabile famiglia Brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione I carabinieri indagano Emerge il possibile movente politico Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra È stato qualcosa di molto più vicino Di molto meno chiaro Scoprirò la verità Dai Allora Un attimo qua di cosa dicono Cosa è? Usa L per scegliere l'articolo da leggere Giulia Cappa Ah ok Angosciati ma sorretti dalla fede Ne danno il triste annuncio La mamma Irene E Il padre Eric E la sorella Marta I funerali avranno luogo alla Romola Giovedì 20 luglio alle ore 21 e 30 Partendo dall'abitazione dell'estinta Ma c'è la sera Saldo baluardo anche nei cieli 159 aeree abbattuti in 24 ore Della difesa germanica del continente Importante operazione russa a nord-ovest di Giassi Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo Due caccia e sei mercantili affondati Capirei E Andiamo sotto Premi miglioramenti nel tesseramento alimentare La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno Un chilo in più al mese di generi da minestra Riforma del trattamento ai braccianti agricoli E distribuzione straordinaria di marmellata Eh Direi Abbiamo visto tutto Vai E Questa è la macchina fotografica Per Giulia Per fotografare sempre di più Il babbo Ok Con noi questa che è Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto Potrei fotografare un passerotto Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori Vabbè Allora macchina fotografica Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti Ci metto sempre le briciole Questa non me lo fa prendere Questi sono i nostri vigneti Mio padre li ama talmente che li fotografa in continuazione Eh oh dai che luci A parte qua la casa è enorme Mi piaceva guardare la tata che cucinava E rimediavo sempre un sacco di cose buone Sì Un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai E c'è qua sotto Infilamosi subito In cantina Sì Gli ho preso un sacco un sacco di cose Ok questa è la camera per sviluppare le foto Ok Ok perfetto Eh però io non ho scattato niente Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa È vecchio ma funziona ancora Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico Prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto Infatti Vabbè questa la utilizziamo dopo allora Dai uscimo Facciamo sta foto ragazzi Poi Come ho detto ci Ci salutiamo perché altrimenti Siamo tanto tanto lunghi come Come primo episodio E Quindi questa è rimasta ancora dentro la bara Qui Ah Ok Ok vediamo un attimo Guardiamoci anche in giro che Ripeto graficamente è veramente bello da vedere Molto molto figo il paesaggio insomma Classiche colline toscane Molto molto bello da qua Allora non so qual è il punto effettivamente dove devo andare a fare la Eventualmente la Ah eccolo qua Per il nostro Bellissimo Passerotto Allora come si apre la macchina fotografica così Allora Stai per usare la macchina fotografica di Giulia È una roller card del 1940 Con pellicola da 120 mm Ti servirà per fotografare quello che ti piace Ma anche per catturare elementi necessari all'avanzamento della storia del gioco Un icon apparirà per indicare i punti di particolare interesse Quando hai impugnato la macchina l'icona ti mostrerà se sei ad una distanza corretta dal soggetto Variando la sua opacità Premi X per vedere la tua macchina fotografica con gli accessori equipaggiati Ok non ha sboccato nessuna skin Ok cerchi il punto che vuoi fotografare e premia per continuare oppure premia per uscire da modalità gioco fotografica Ovviamente può avvicinare Allora La macchina fotografica Vediamo un attimo Stai per scattare la tua prima foto Per semplificare la simulazione e l'anteprima della foto reagirà ai settaggi che impartirai alla tua macchina fotografica Nella realtà l'immagine di puntamento è formata dal secondo obiettivo E rispondi esclusivamente alla messa a fuoco Allora Dobbiamo prendere il passerotto Quindi direi Preparati al tuo primo scatto Ora puoi sistemare l'inquadratura con precisione Sistezza Rotazione Allora Soggetto inquadrato Sposta corretta Ci manca la messa a fuoco praticamente Allora Apri il pannello per accedere all'impostazione avanzata e rendere unico il tuo scatto Usa il controllo del pannello per ricordare la messa a fuoco Tab di disposizione Apertura del diaframma Premere B e passare al tab extra Ok Quindi dobbiamo in teoria metterlo a fuoco Se vi copro un pochettino la schermata Ok in teoria dovrebbe essere a posto Lì c'è evidenziato tutti e tre in rosso Quindi forse dovrebbe essere corretto Allora qui si trovano tutti gli addoni per la fotocamera Potrai facilmente montare i lenti, i filtri, i pellicoli con diverse sensibilità E molto altro ancora Al momento possiedi solo la pellicola ISO 100 Prem X per chiudere il pannello Ok Una volta che ho usato questa finestra Aggiusta la camera e quindi premio Aretti per scattare Scattare una foto al passerotto a fuori casa per testare la macchina fotografica Va bene E scatta Complimenti a scattatore Puoi scattare tutte le foto che vuoi Ricorda che solo alcune di esse saranno cruciali per avanzare nella storia Più avanti imparerai a stampare le fotografie che hai scattato Bene, ho scattato la foto Ok Ora subito in cantina per stamparla Allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui E sicuramente poi una volta Il vado da poco in generale dell'esercito tedesco Prima faceva le fotografie sul fronte E ora mi regala un sacco di materiale fotografico Ora che non c'è più Marta Solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi Non posso permettermi di dimenticare Vabbè Dicevo sicuramente poi quando andremo giù nella camera oscura Dovremmo sviluppare quindi partirà un altro mini tutorial E lo vedremo sicuramente nel prossimo appuntamento Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo Vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace Un commentino A iscrivervi al canale se non l'avete fatto In descrizione trovate il link a tutti i social network Che è la mia attrezzatura In alto e destra trovate la playlist del titolo Mi raccomando ragazzi magari evitate spoiler nei commenti Perché insomma L'ho appena incominciato Cerchiamo di essere maturi da questo punto di vista Quindi io di nuovo vi ringrazio Vi do appuntamento al prossimo video Ciao 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 ciao